Si chiama Cibo Sicuro Estate 2018, il progetto dell'ASL Salerno in programma fino al 30 settembre prossimo, che coinvolge i comuni riveraschi del Golfo di Salerno e che ha l'obiettivo di far conoscere ai cittadini il ruolo del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL in materia dei servizi igiene degli alimenti e della nutrizione, di controllo sulla sicurezza dei cibi e sulla sanità pubblica dei servizi veterinari. Tutte le sere, dalle 18 alle 22 all'Ido Mare No Limits ad Eboli, sono operativi nel gazebo la dottoressa Anna Maria Nobile, responsabile UOSD Prevenzione Collettiva di Eboli, il dottor Luigi Morena, responsabile UOSD Veterinaria di Eboli e il dottore Nicola Vitale, tecnico della Prevenzione di Eboli. Medici, veterinari e tecnici della Prevenzione svolgeranno tutti i giorni, dalle ore 18 alle ore 22, attività di sensibilizzazione con la distribuzione di materiale informativo sui temi della biosostenibilità, della dieta mediterranea, dei prodotti tipici e della resilienza mediterranea negazebo allestiti dall'ASL di Salerno.